Droga nascosta tra la vegetazione Manette e Pusher, 25enne. Nascondeva la droga in una baracca coperta da vegetazione ma è stato smascarato dai carabinieri della sezione radio mobile della compagnia di Siracusa, costantemente impegnati nei servizi di contrasto alla droga, che hanno arrestato un 25enne siracusano perché ritenuto responsabile di detenzione ai fini di sparcio di sostanza stupefacente. L'attenzione dei militari, grazie a una pregressa attività info-investigativa, si è concentrata nella periferia della città di Tesea, dove l'uomo è stato sorpreso dai militari a spacciare nei pressi di una baracca artigianale immersa in una vegetazione. In particolare i militari avevano notato che il 25enne, a quanto pare già noto per le sue pregresse vicende giudiziarie proprio in relazione a spaccio di droga, avrebbe esercitato la propria illecita attività sfruttando come deposito della droga la vegetazione spontanea esistente su un terreno incolto. Sospetti che hanno avuto riscontro durante il servizio di avvistamento di varie pattuglie che a distanza hanno controllato le mosse del 25enne. In effetti nell'arco pomeridiano l'uomo è stato notato a dirigersi verso quel terreno dove tra la vegetazione vi era una baracca situata nella periferia della città di Tesea e veniva sorpreso dai militari a spacciare nei pressi. L'attività fa seguito a un rinvenimento dei stupefacenti nella medesima zona degli scorsi giorni. Infatti all'interno della baracca, nascosta tra la fitta vegetazione, sono stati rinvenuti oltre 100 grammi tra cocaina, crack, hashish e marioana sottoposti a sequestro. Al 25enne in seguito alla convalida dell'arresto è stato applicato l'obbligo di dimora nel comune di Siracusa con la prescrizione di non allontanarsi dalla propria abitazione durante l'orario notturno.